Le lacrime, il dono delle lacrime che accompagnano tutta la vita nostra, tutta la vita dell'uomo. Dalle lacrime, o meglio, dal pianto di quando il bambino esce dal grembo materno ed entra nel grembo del mondo, alle lacrime spesso della morte che ci riportano nel grembo originale, cioè nel seno del Padre, nel grembo di Dio. E questa verità è detta, è presentata anche nella scrittura. Ascoltiamo il Salmo numero 139. Che dice questo Salmo? Rivolgendosi a Dio, Davide, ma ciascuno di noi, dice e prega Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Sei tu che hai creato le mie viscere. E' Dio che ci ha creato e creandoci ci ha dato anche il dono delle lacrime. Ma attenzione! Che ci sono lacrime e lacrime. Ci sono lacrime vere, lacrime di pentimento, lacrime di gioia, lacrime di commozione, ma anche lacrime, come diciamo noi, di coccodrillo per farci credere e lacrime di camaleonte. Cioè le lacrime per attirare l'attenzione degli altri. Ecco, quest'ultima tipologia di lacrime non le ho mai conosciute, cioè non sapevo che esistessero le cosiddette lacrime di camaleonte. Cioè persone che piangono per attirare l'attenzione su di sé. Ma tutte queste, tra virgolette, tipologie di lacrime fanno parte tutta della nostra umanità. Nel negativo, nel positivo, nel bene e nel male. Le lacrime come segno che contraddistinguono il nostro cuore. E torno ancora una volta a ripetervi quello che diceva Sant'Agostino. Le lacrime sono il sangue del cuore. Ma Agostino diceva ancora circa le lacrime queste parole. Nel pianto è la sofferenza, nella consolazione è il pregno. Vi aspetto domani parli più tv dritto al cuore. Ciao a tutti! !